Oggi parleremo del testo più importante di Immanuel Kant. Si tratta della critica della ragione pura. È un testo esteso, complesso e sicuramente dovrete concentrarvi un po' per seguire questa lezione. Diciamo pure in tutta chiarezza che la critica della ragione pura di Kant è il libro più importante del quale parlerete nel corso del quarto anno delle scuole superiori. Cioè in tutta la filosofia moderna, certamente Cartesi è importante, Leibniz è importante, Spinosa è importante, sono importanti anche certi filosofi del Rinascimento di cui abbiamo parlato magari rapidamente, però la svolta epocale è data da Cartesio prima e da Kant poi. Dopo Kant in Germania vedremo nasceranno delle scuole filosofiche importantissime. Si può dire che da Kant in poi le università tedesche saranno le università della filosofia. Dopo Kant avremo l'idealismo tedesco con Fichte, Schelling e Hegel, poi avremo una critica di questo idealismo con Schopenhauer e poi avremo Nietzsche e poi nel novecento avremo Heidegger, avremo Gadamer. Cioè la filosofia davvero da Kant in poi diventa qualche cosa di assolutamente tedesco. Se era stata la Francia nel seicento e nel settecento a tenere banco e ad occupare la scena europea, da Kant in poi l'ottocento sarà, senza ombra di dubbio, il secolo dei filosofi tedeschi. Allora, la critica della ragione pura di Kant, questo testo di cui dobbiamo parlare noi ora, in sostanza vuole rispondere a quella situazione di scacco matto nella quale era stata lasciata la filosofia da Hobbes. Se ricordate la lezione su Leibniz, dicevamo che non vi era nulla nell'intelletto al momento della nascita e Leibniz aggiungeva se non lo stesso intelletto, nisi intellectus ipse. Bene, che cosa vuol dire? Allora, vuol dire che Kant pensa che questa affermazione di Leibniz abbia davvero colto nel segno e pensa che si debba provare ad esplorare quali sono le facoltà della nostra ragione pura, cioè le facoltà della nostra ragione scevra di contenuti, pura vuol dire prima di avere dei contenuti, perché secondo Kant la nostra ragione ha degli a priori sia a livello sensibile sia a livello intelligibile. Questi a priori sono lo spazio, il tempo a livello sensibile e a livello intelligibile sono le categorie. Voi in questa lezione dovete riuscire a spiegare questo in sostanza. Se riuscirete a spiegare che cosa sono gli a priori dell'estetica trascendentale, lo spazio e il tempo e poi che cosa sono le categorie, probabilmente riuscirete a rispondere a tutte le domande, a tutte le questioni che sorgeranno circa la critica della ragione pura di Kant. Però capire questo significa prima di tutto analizzare la struttura di quest'opera della critica della ragione pura attentamente e poi valutare bene passaggio per passaggio come costruire il discorso. È quello che ci proponiamo di fare adesso perciò. Allora, criticismo, per riassumere il mio discorso, significa esame delle possibilità e dei limiti della ragione in ambito conoscitivo. Questo significa critica della ragione pura, cioè possibilità e limiti della ragione in ambito conoscitivo in senso assoluto, non quali sono i miei limiti conoscitivi quando mi trovo di fronte al fenomeno mela o pera. Significa quali sono i limiti della conoscenza in assoluto, perché secondo Kant in quanto uomini nasciamo con una certa conformazione tanto dal punto di vista sensibile quanto dal punto di vista intellettuale e questo influisce nel nostro modo di sentire i fenomeni della realtà esterna. Nella critica della ragione pratica Kant vedrà quali sono invece le possibilità e i limiti del giudizio teleologico che è in fondo il giudizio estetico di gusto sul bello, ma naturalmente delle altre due critiche non parleremo in questa lezione. Allora, il problema fondamentale che si pone la filosofia kantiana è come è noto il problema della conoscenza. Che cos'è la conoscenza? La metafisica pre-kantiana non si era occupata di questo problema. Essa assumeva il conosciuto, essenza delle cose, come un oggetto dato indipendentemente dal soggetto conoscente e non si preoccupava di interrogarsi circa le possibilità della conoscenza. Questa era la metafisica che veniva prima di Cartesio e prima dell'empirismo inglese. La realtà era già data, l'uomo faceva filosofia all'interno dell'essere e non c'era separazione, abbiamo detto, fra il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto. Questa separazione, il primo che la mette in atto, abbiamo visto, è stato Cartesio, che divideva fra res cogitans e res extensa, quindi noi come soggetto pensante e il mondo esterno. E poi vedremo che, secondo Hume, che metteva in crisi il principio della causalità, avremo anche un problema di un altro tipo e di un'altra natura. Secondo Hume, sarà problematico anche affermare che il mondo esterno come oggetto esista separatamente dal soggetto che lo pensa e che lo percepisce. E questi sono gli esiti estremi dell'empirismo. Da una affermazione dell'esistenza della realtà in quanto di natura sensibile e corporea, Hobbes, si arriva a Hume che dice che solo mentre io la percepisco posso dire che la realtà esiste. Siamo quindi ad una negazione dell'esistenza dell'esistenza del fenomeno. Il fenomeno si trova ancorato soltanto al soggetto che lo percepisce. Allora, naturalmente, Kant riconosce che bisogna dare una ragione dell'esistenza del mondo esterno. Non si può affermarla semplicemente. Questo atteggiamento è il dogmatismo. Questo carattere della filosofia, che abitualmente viene definito dogmatismo, cioè ammettere che le cose esistano indipendentemente dal soggetto conoscente, si era espresso in maniera particolarmente chiara nel sistema che aveva dominato immediatamente prima di Kant, il sistema del filosofo tedesco Wolf, il quale considerava come assolutamente indipendente dal soggetto conoscente l'esistenza del mondo oggettivo esterno al soggetto stesso, e affermava quindi che noi conosciamo questo mondo oggettivo per mezzo della ragione, nell'ontologia, nella cosmologia razionale e nella psicologia. E lo conosciamo nella sua essenza, quale esso è in sé stesso, avendo come organo della conoscenza le idee innate della nostra ragione e le leggi del pensiero. Cioè, ritorniamo con Wolf alla posizione classica della scolastica medievale. Praticamente, ritorniamo al tomismo, alla filosofia di Sant'Ommaso d'Aquino. L'ontologia, la cosmologia razionale e la psicologia sono le scienze che ci permettono di conoscere il mondo. Naturalmente, dopo Cartesio e dopo Hume, è impossibile continuare ad ammettere come un postulato, come un dogma, l'esistenza del mondo senza doverla giustificare. E allora, ecco che la nostra questione è, ma come era possibile da parte del soggetto una conoscenza essenziale di ciò che si trovava fuori di esso ed era da esso indipendente e in parte anche essenzialmente distinto da esso? Un simile problema non si poneva neppure. Ci si trovava di fronte ad una metafisica inconscia. La ragione umana si abbandonava come in un sogno alle illusioni metafisiche, senza rendere né chiedere conto della loro possibilità. Cioè, tutta la metafisica creava dei castelli in aria, diceva questo deve essere certo, se questo è certo allora ne consegue quest'altro, eccetera eccetera, ma non vi era nessuna evidenza della realtà di queste ipotesi metafisiche. Fu Kant, allora, che trasse la filosofia da questo sonno dogmatico. Come si sa, l'occasione per il risveglio dello stesso Kant fu data dallo scetticismo di David Hume, che aveva negato qualsiasi valore oggettivo alla legge della causalità, la legge fondamentale della ragione, facendo derivare questa legge dall'abitudine e rendendo così impossibile qualsiasi conoscenza autentica, qualsiasi scienza. E ricordate, lo scetticismo di Hume è terribile, perché se noi non abbiamo più il principio di causalità, se questo principio di causalità è dettato unicamente dall'abitudine, questo vuole dire che noi non abbiamo più nessuna conoscenza certa. Kant, allora, desiderando salvare questa possibilità, sottopose a esame non solo la legge della causalità, ma anche tutte le altre forme generali del nostro pensiero. Finalmente qualcuno riprende in mano questa situazione, la filosofia stava andando un po' alla deriva, e Kant riprende le redini della filosofia con la sua critica della ragione pura. E allora la domanda è, è possibile asserire con certezza che tutta la conoscenza procede dai sensi? Gli empiristi, Locke, Hume, avevano risposto affermativamente, ma le difficoltà di una soluzione semplicistica che escludesse completamente l'intervento di altri fattori riduceva il mondo esterno ad una mera passività. Riformuliamo la domanda in questi termini. È possibile asserire che il soggetto conoscente, stimolato dall'esperienza sensibile, non aggiunga nulla di proprio a queste percezioni? È possibile? È possibile davvero credere, dice Kant, che noi come soggetto riceviamo le impressioni sensibili in modo perfetto, proprio come una tavoletta di cera calda che rimane impressa dal sigillo dell'anello del Vescovo che firma la sua lettera sulla ceralacca? No. Secondo Kant, la nostra conoscenza comincia con l'esperienza ma non deriva interamente dalla esperienza. La conoscenza empirica non potrebbe essere un composto formato dai sensi e da ciò che la nostra coscienza introduce nelle percezioni sensibili? Kant opterà per questa ipotesi. La nostra conoscenza è data dai sensi e da ciò che la nostra coscienza aggiunge alle percezioni sensibili.